musica bene a tutti ragazzi sono stati con il mio nuovo video oggi metteremo contro l'ultimo di super 4 drake il master dei draghi maestro del tipo drago è l'ultimo di super 4 nell'orapia dei naturali i pokemon selvatici sono dei perla a volte ci causano problemi a volte ci aiutano sono dei stronzi pazzeschi cioè così sembra è bruttissimo poi quando c'è proprio la schermata quando inizia a combattere è un figo della madonna in questa cosa ne capisco proprio però c'ho il mio bel chiogre all'inizio con geloraggio gli spaccherà il culo a tutti quindi siamo tutti felici ora perché chiogre è completed If you know that he's going to kill every pokemon he faces Mare primordiale di Chiogre E' scoppiato un acquazzone pazzesco Arriva Altaria ma schiata appena vede Chiogre Si suicidia, si fa un geleraggio su se stesso e poi schiata Ed ecco uno che se ne va a fancuno Nel nome del Ponzi E prende 1.253 punti E poi arriva un perla di Metagloss che cresce sempre di più E è sempre più forte e cerca di parli per raggio Ma col cazzo che glielo do Si attaccasse al cazzo Si attaccasse al cazzo E poi arriva Flygon Che non fa un cazzo pure lui Perché morirà contro il nostro bel perla Testa di cazzo di Chiogre Un bel gelolaggio Nel se l'ammazza E invece si No, non l'ammazza Ma perché? L'ha ammazzato ragazzi L'ha ammazzato Flygon fa schifo Flygon Hashtag schifo Hashtag Flygon fa schifo Chiogre Hashtag glielo 54 Una cosa bestiale Salamence Me lo tengo Chiogre Vediamo se riesco Ragazzi Scusa sarà un challenge Uccide tutta la squadra di Drake Usando solo Chiogre Ne ho già accesi due Vediamo un po' se riesco a uccidere anche gli altri Gelo d'agio If you know What happiness feels in you E oh mio Dio Clap alone If you know What happiness feels in you E dai mori È morto If you know What happiness feels in you Perché sei morto Clap alone If you know Vediamo se l'ammazza pure lui va Nantro Flygon Che tanto Cioè ma io dico Perché mettono i due Pokémon uguali Cioè cambiare no eh Però non esiste avere Che palla Perché Bravo Bravo Kaigo Bravo Chiogre E bravo Chiogre Chiogre l'ammazza Perché Chiogre è una bestia totale Chiogre è una bestia ragazzi Chiogre è una bestia Perché Chiogre è Chiogre Avete capito Capito Ci rimane solo un Pokémon Dalla vittoria contro il campione Ok C'è lo raggio Ammazzalo Ecco il Picasso Sbadiglio Ma che cazzo ti sbadigli tu Bello mio Ma che cazzo vuoi far dormire Io ti devo ammazzare Hai capito tu Non mi sa ne ha capito ragazzi Cioè Ed è morto Sì ragazzi Challenge complete Abbiamo ucciso Drake Usando solo Chiogre Una cosa bestiale Kamerup Sardeglio del 54 Ci servirà molto Per combattere contro il campione Visto che lui di tipo È Di tipo acciaio E quindi alla fine Ci serve Abbiamo vinto altri 8000 Quindi siamo messi bene E quindi mi sa che tocca Aspettare un po' Che Ok Il campione mi sta aspettando È ovvio Il campione mi aspetta Perché io sarò il campione di oggi Comunque ragazzi Questo è tutto Ci vediamo in un secondo video Bella ragazzi Bitch Bitch